amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazione autosportive oggi vi presentiamo una macchina molto particolare dal mio punto di vista una delle più belle che sono in circolazione ce ne capitano poche di queste macchine qua questa è una aston martin vantage quindi un v8 questo tipo di vettura l'hanno fatta v8 come questa addirittura vanno fatto anche il v12 questa è una macchina del 2007 quindi una macchina non proprio recentissima con motore aspirato un 4003 totalmente in alluminio da 385 cavalli la diciamo che la caratteristica di questo motore è che viene assemblato totalmente a mano motore completamente in alluminio assemblato totalmente a mano a colonia in germania poi se vediamo tirando su il cofano c'è il quello che è il colui che ha praticamente dato il benestare che ha fatto la parte di assemblaggio di questo motore cioè tutti i motori aston martin presente come motori rolls royce d'altronde presentano appunto il nome di chi ha assemblato il motore una caratteristica molto particolare però direi di estrema particolarità questo è un cliente che stiamo curando già da alcuni anni abbiamo fatto l'anno precedente un lavoro due lavori abbastanza grossi uno chiaramente era la parte di carrozzeria per cui abbiamo frappato la carrozzeria in questo colore titanio che direi le le dà giustizia da un punto di vista di particolarità diciamo enfatizza quelle che sono le linee è già una macchina molto particolare in questo colore qua secondo me lo è ancora di più questo colore un lavoro che abbiamo fatto circa un anno fa e insieme a questo lavoro abbiamo sostituito una parte abbastanza banale c'era un un fusello di un di un mozzo anteriore sinistro che era rumoroso ecco l'unica nota che mi sento di commentare è ovviamente un pezzo del genere non è un pezzo comunissimo non è neanche un per dire un pezzo di chissà quale entità il problema che per trovarlo bisogna ordinarlo direttamente in aston martin quindi mi ricordo un anno e mezzo fa la trafila per avere questo pezzo per cui bisogna ordinarlo in inghilterra tempi di attesa minimo tre mesi costi cinque volte superiori a quello che potrebbe essere un pezzo normalissimo che uno può montare su una mercede su una bmw un audi un pezzo del genere che è stato più di 1500 euro quando da un punto di vista commerciale il costo erano 300 350 euro quindi bellissime macchine stupende molto particolari attenzione a mettere le mani su particolari o su pezzi originali dove c'è necessità di avere un pezzo originale perché lì è veramente un bagno di sangue oggi abbiamo di nuovo in carico alla macchina abbiamo fatto un tagliando semplice quindi non abbiamo fatto nulla di più che un tagliando la caratteristica se vogliamo peculiare di questo tagliando è il fatto che viene usato un olio specifico per questo genere di motore che è un 5 v 60 della castrol fatto apposta con le specifiche aston martin e la spesa grossa nel cliente è il fatto che questo motore contiene 11 litri d'olio quindi motore grosso di cilindrata ma con una coppa dell'olio è un carter secco ma con una quantità di olio all'interno veramente molto molto consistente come tutti i carter secchi ovviamente la quantità di olio è molto molto superiore rispetto a quelli con la coppa dell'olio classica tanto per intenderci tagliando diciamo la manutenzione abbiamo controllato la macchina è perfetta sono macchine macchine che vengono usate relativamente poco quindi sono macchine per intenditori e ovviamente non sono macchine da usare tutti i giorni comunque fa piacere averla in officina ci ha fatto piacere presentarvela io direi che anche per questa aston martin è tutto vi invitiamo a contattarci telefonicamente in sede allo 0273 83175 io sono luca sono sempre lì dal lunedì al venerdì consultate il sito dove troverete chiaramente anche questa aston martin soprattutto nella nella parte archivio elaborazione dove abbiamo inserito più di 3600 schede vettura quindi avete da sbizzarrirvi per andare su divise per marca quindi avete da sbizzarrirvi per vedere un po' tutto quello che abbiamo fatto nel corso di questi ultimi dieci anni poi cliccate sulla campanella e soprattutto iscrivetevi al canale per darci una mano e comunque rimanere sempre aggiornati su quello che noi facciamo un saluto alla prossima no